ciao a tutti e benvenuti sul canale dama collezione oggi faremo l'unboxing del cofanetto superman anthology in 4k ultra hd cofanetto edito da warner bros in library case in metal case con tutti i quattro capitoli classici della quadrilogia di superman per chi fosse poco avvezzo dei film di superman magari conosce solamente i film recenti usciti negli ultimi anni quindi magari conosce l'iterazione di zack snyder con henry cavall o magari andando un po più indietro nel 2006 2007 magari ha visto la pellicola superman returns di brian singer ma qua all'interno troviamo i quattro film originali quattro capitoli che sono usciti tra il 78 e il 1987 quelli con christopher reeve il primo film del 1978 è stato un film rivoluzionario perché mai prima d'ora era stato concepito un film di supereroe così maturo così moderno e mai da quel momento lì in poi superman acquistò maggior peso ed entrò definitivamente nella cultura pop mondiale film del 78 venne diretto da richard donner con un giovanissimo christopher reeve e con jane akman nei panni dell'arci nemico nella nemesi di superman di clark kent l'ex luthor interpretazione magnifica quella di jane akman entrambi ritorneranno in tutte e quattro le pellicole e secondo me sono stati due attori fantastici e che hanno dato molto alle loro parti inoltre come non citare nel primo capitolo nel film del 78 di donner la presenza nel nel ruolo del padre di kalel marlon brando il secondo film è uscito nel 1980 ma il superman 1 e il superman 2 sono stati girati quasi contemporaneamente solo che il regista richard donner per problemi creativi per problemi con la produzione abbandonò il film a poco prima che le riprese vennero concluse definitivamente al suo posto venne scritturato venne ingaggiato il regista richard lester però del film superman 2 esistono diversi cut perché poi col tempo richard donner ha avuto la possibilità di mettere mano sul materiale sul girato e quindi esiste del richard donner cut e poi esiste il film in versione cinematografica che ha il cut di richard lester poi il terzo capitolo superman 3 è uscito nel 1983 ed è stato diretto da richard lester il quarto e ultimo capitolo di questa quadrilogia è uscito nel 1987 ed è stato diretto da sydney j fury comunque dopo questo breve excursus sul mondo della quadrilogia dell'antologia di superman dell'era classica dei film originali direi di passare all'unboxing del cofanetto quindi scartiamo il magnifico box metallico e andiamo a vedere le stupende steelbook che sono presenti qui all'interno c'è il flyerino è un'edizione italiana voglio sempre togliere la fastidiosissima colla e poi bisogna sfilare il flyer ecco qua troviamo ben cinque steelbook ma prima di addentrarsi nella visione degli artwork esclusivi per questo box vi faccio vedere l'esterno di questo library case metallico guardate che bello sì e vince tutta la fortezza della solitudine di clark kent di superman la mitica fortezza diamantata ghiacciata dell'uomo d'acciaio che contiene tutta la conoscenza di krypton tutto ciò che è rimasto della civiltà kryptoniana bellissimo come box e adesso andiamo a vedere le steelbook superman the movie superman 2 che ha da un lato la locandina del cut cinematografico e dall'altro lato c'è l'artwork relativo il cut di richard donner bellissima questa cosa su e giù molto bella la trovo molto carina come cosa poi abbiamo superman 3 superman 4 the quest for peace e poi l'ultima steelbook che è un artwork fumettoso perché il buon superman il nostro uomo d'acciaio è stato per tanti anni al meglio i suoi primi anni era protagonista delle strisce fumettistiche di action comics quindi mi piace molto questa steelbook che richiama le origini del personaggio le origini fumettistiche del personaggio e il cufanetto è così c'è questa struttura metallica library case con all'interno questa spugna con dei separatori per non graffiare le steelbook andiamo a vedere nei dettagli le steel gli artwork in realtà sono tutti un po diversi tra loro perché superman 1 un artwork classico uno dei tanti poster usciti nell'epoca idem superman 2 gli artwork di superman 3 e 4 sono delle illustrazioni che si discostano un po come uniformità rispetto alle precedenti però sono molto belle anzi dette in maniera molto onesta preferisco questi due artwork rispetto a quelli precedenti mi piacciono di più queste illustrazioni molto colorate belle particolari nettamente più belle e poi questa come vi ho detto prima fumettistica che si discosta completamente rispetto a tutte le le altre grafiche all'interno delle steel all'interno delle steelbook ci sono due dischi e un'edizione combo c'è blu ray più il disco 4k ultra hd e all'interno troviamo il mitico christopher reeve il man of steel l'uomo d'acciaio clark kent in tutto il suo splendore qui invece troviamo addirittura quattro dischi perché ovviamente ci sono i due 4k uno con il cat di donner uno col cat cinematografico e poi i due blu ray blu ray con il cat di donner e blu ray col cat cinematografico quindi qui all'interno troviamo ben quattro dischi poi arriviamo super mentre sempre in combo blu ray più 4k qui troviamo uno dei villain del film uno dei cattivi di questo terzo lungometraggio superman 4 con un blu ray più 4k e qui all'interno troviamo il mitico jen hackman nel ruolo di lex luthor nemesi dell'uomo d'acciaio e poi qua all'interno di questa steelbook troviamo dei gadgettini e questa è una vera e propria novità perché le precedenti edizioni warner library case non avevano una steelbook aggiuntiva con dei gadget qui dentro sono dei gadgettini interessanti degli inserti qui subito troviamo il certificato di autenticità con la numerazione quindi di fatti si tratta del primo cofanetto library case metallico di warner brossel limitato e numerato con un certificato di autenticità la mia è la copia 8869 di 13525 ed è un'edizione limitata gif set celebrativa per festeggiare l'ottantacinquesimo anniversario della storia della storia di debutto di superman ovviamente storia di debutto fumetistica dell'uomo d'acciaio molto carina come cartolina poi troviamo un booklet stampato su carta lucida fotografica con un book fotografico non ci sono scritte sono solo immagini dietro le quinte immagini comunque della gestazione filmica classica di superman dell'antologia dell'antologia poi troviamo un mini fumettino superman 78 di venditti torres bellair in inglese che omaggia presumo il film del 78 di donner mini albetto celebrativo e poi qui all'interno troviamo l'enticolare che ci mostra tre criptoniani che sono stati confinati nella zona fantasma da joelle e dagli altri criptoniani del consiglio dovrebbe essere il generale zod più due luogotenenti e basta l'interno della steel è questa qua quindi superman è uscito per la prima volta nel 38 ha debutato nel 38 bellissimi questi cofanetti davvero fantastici in questo caso qui poi i 4k della quadrilogia di superman dell'antologia classica di superman a livello filmico sono una novità in formato 4k oltre HD su supporto fisico quindi tanta tanta roba i blu-ray più o meno sono gli stessi quelli editi precedentemente non c'è nessun contenuto speciale nuovo se non appunto il packaging e gli inserti cartacei però se come me vi piacciono questi franchise supereroistici vi piacciono i bei cofanetti limitati vi piacciono le edizioni in particolare tutto ve lo straconsiglio davvero bello come box come cofanetto tanta roba i film in particolare i primi due capitoli della quadrilogia di superman quelli classici sono fantastici molto molto belli vi consiglio alla visione tanta roba secondo me due ottimi lungometraggi supereroistici fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo mio spacchettamento se vi piacciono i film di superman se vi piacciono questi cofanetti coi metallici di warner bros e se anche voi avete comprato questo magnifico cofanetto io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento tra qualche giorno con un nuovissimo eccitante libro a presto